I disagi in via 2 Principati non finiscono mai, ogni qual volta piove i problemi aumentano e ieri questa fognatura sta allagando tutta la zona. Sono state intasate un po' dai lavori in modo per cui è il problema dello scalone anche che arriva da via Roma più quello che arriva dalla salita delle poste e confluisce tutto qui, le acque, fogne e sono i problemi che si sapevano, non è che non si sanno. Poi ci sono state queste piogge proprio dannose in un modo schifoso, più i lavori che hanno otturato un po' stefoglie. Insomma in via 2 Principati ogni volta che piove ci vuole la zantra. Ci vuole la zantra, ci vuole tante di quelle cose, ma è anche pericoloso perché si può sfondare, perché noto che i basoli si sono un po' diveltati e a un certo momento ci vorrebbe un po' un intervento da parte dell'impresa. Io comunque ve l'ho avvisato.